Ehi, come va, gente? Dunque, voglio ringraziarvi per essere tutti qui stasera per celebrare il 25esimo anniversario della più grande impresa nella storia sportiva di Easton. La vittoria nel campionato dello staff. Intendiamoci, non mi ritengo così vecchia da passare la vita giocando a golf, ma è grave. Ma è piuttosto piacevole. Buongiorno, dovreste venire da me in Arizona, ma abbiamo tanto spazio e Lori l'ha visto. Hai una bella casa. Vienici, camere da letto e una piscina a sfioro. Oh, sì, magari a febbraio o a marzo potreste fare un salto per un weekend. Certo, sì, penserò a qualche data. Siamo state bene al mio matrimonio? Un weekend memorabile. Oh, sì, se l'è spassata. Non fa che parlare di quel matrimonio e dei gamberoni. Oh, l'hanno fatta impazzire. Adorati. Venite. Giusto, Lori? È vero, erano deliziosi. Sì, smettila e non rivolgermi più la parola. Tu mi adori. Certo. Eh, dai, lo so che mi adori. Aiutatemi a me, non mi reggete. Bet Hanlon! Ti ho vista stamattina in tv, Don. Se credi che io faccia male il mio lavoro, parlane con me. Qui non si tratta di te, Mer. Si tratta di trovare mia figlia. Mer, smettila subito, ok? Sì, lo so, questo lo so benissimo, ma io lo faccio il mio lavoro, Don. Lo sai tu. Puoi dire di smettila, per favore. Non è il momento di parlarne, va bene? Lo fate dopo. Non serve a niente andare in tv di continuo a gridare al mondo intero che sono incapace. Mer, smettila. Che si parla di te, Mer. Non è sempre questo, Mer. Non è il momento per certi discorsi. Sai cosa ho fatto per trovare Katie? Ehi, stanno chiamando noi, quindi sta zitta un secondo, ok? Lori Ross, va tutto bene? Ogni settimana. Mi sedevo con te e cercavo... Ascolta, ho esaminato il caso in ogni minimo dettaglio, ho bussato a ogni casa a dispaccio da Westchester a Kensington, per non parlare delle mance che ho lasciato. Centinaia di dollari, ho anche chiamato dei sommozzatori. Non si trascano di te e lo scopo. Quante volte devo dirtelo? Don Bailey! E finalmente, Miss Lady Oak in persona! Un applauso per Mark Sheer! Un applauso che è лишita di chiare. Finalmente, ci stai insieme a tutto il confetto da